Musica Vetri roti a terra, scaffali e scrivanie distrutte, indumenti bruciati ed infine spogliatoi sottosopra, una struttura totalmente distrutta. Così si presenta oggi l'impianto sportivo delle caselle, preso di mira ancora una volta da alcuni vandali. Nell'ultimo fine settimana si è verificata infatti un'altra incursione nei locali che ospitavano la società Yunon Team Chimera, fallita lo scorso luglio. Purtroppo non è la prima, si sono succeduti nel corso dei mesi diversi furti e diversi atti vandalici, non per ultimo questo fine settimana abbiamo potuto constatare che hanno devastato ulteriormente altri manufatti, hanno portato via materiale informatico, hanno portato via anche arredi e l'ultima devastazione, le possiamo vedere qui intorno, hanno addirittura devastato immobili che erano parte del fallimento. Vediamo un attimino adesso come procedere, la quinta denuncia per furti e per deneggiamenti che facciamo, abbiamo chiesto l'intervento dei carabinieri, della municipale, hanno fatto sopralluoghi e purtroppo però non è mai stato trovato per il momento nessun colpevole. Purtroppo siamo arrivati al punto che non siamo più in grado di contenere questi furti, questi atti vandalici. Noi cegliamo appunto l'intervento delle forze dell'ordine che abbiamo già fatto nel corso delle ultime settimane, sempre in maniera più intensiva, perché questo impianto sta andando purtroppo in rovina, non solo per il tempo che passa, ma purtroppo per i danni sempre più frequenti che vengono fatti. Se è un atto generico rientra nella categoria degli atti vandalici che tra l'altro il contesto ancora lo permette, perché essendo al momento non in gestione, è ovvio che non essendo neanche centrale rispetto alla città, i vandali sostanzialmente si orientano più in queste realtà. Se fosse un atto specifico, cioè un segnale di non gradimento, potrebbe anche starci, io non lo so, rispetto alle scelte che stiamo facendo e che in parte abbiamo già fatto, circa la volontà di far sì che quell'impianto diventi un appendice dello stadio dedicato in primis agli allenamenti della prima squadra, ma anche alla riapertura dell'impianto per altre realtà sportive, mi dispiace, ma hanno sbagliato assessori, noi andiamo avanti.